Non abbiamo questa sensazione di sentirci tanto sicuri. Parlo per me, parlo anche per i miei conoscenti, così non le sentiamo questa sicurezza. Questa non è una città simbolo come quelle che sono state colpite, quindi qua ci si sente un po' più sicuri e poi si vedono anche le forze dell'ordine. Mi sento sicura perché mi guardo un po' intorno, ma però mi sento anche sicura qui. Penso che proprio non siano qui dietro. Cosa dice? Penso che nessuno si senta sicuro in città adesso. Probabilmente nelle grandi città hanno più problemi di noi, ma non siamo estrani ai fatti e soprattutto non viviamo bene. Anche per una preoccupazione per tutto quello che sarà, per i valori della famiglia, tutto quello che si sta disperdendo in questi anni. Adesso c'è un po' di paura e questo trattiene, penso ovviamente avrò la possibilità di vedere, comunque di girare, così. E ovviamente non ci si può fermare perché se no, se si guarda solo a quello, poi può succedere di tutto in qualsiasi momento, anche stando a casa. Che a queste cose non si può mai essere pronti perché per quanta sicurezza ci possa essere polizia, militari che adesso girano anche, però per queste cose, insomma, se una persona viene qua e si fa esplodere, non è che si possa essere pronti, ecco. In linea generale dunque i veneziani si sentono sicuri e abbastanza protetti nella loro città, diversamente se si tratta di intraprendere qualche viaggio. Adesso anche a partire si ha un po' di paura ovviamente, però non si può fermarsi, la vita continua va avanti purtroppo per le vittime, dispiace sempre. Andare in un aeroporto, andare in una stazione, soprattutto nella capitale, penso che in questo periodo sia un po' difficile. Certo che non si può essere tranquilli come prima, si è anche un po' condizionati, anche magari, non so, adesso magari c'è qualche ponte e si potrebbe fare 3-4 giorni anche in qualche città europea e magari si rinuncia oppure sì, c'è sempre questo pensiero, insomma.